È tornata a Padova pochi giorni fa e dopo 48 ore ha iniziato ad accusare i sintomi del coronavirus. Ora è ricoverata nel reparto di malattie infettive e i sanitari sono al lavoro per evitare che scoppi un focolaio tra le persone con cui la donna è entrata in contatto. È il caso di una signora moldava che lavora come badante a Padova e che è rientrata dal suo paese con un pulmino, ovviamente insieme ad altre persone, alcune badanti come lei. Due giorni dopo la febbre sale, lei si presenta al pronto soccorso e il tampone è positivo. Già rintracciato l'autista del pulmino, le autorità sanitarie hanno fatto il tampone anche all'anziana che la donna assiste e ai suoi familiari. Stanno per essere rintracciati anche gli 11 passeggeri del pulmino mentre è stato avvisato il consolato moldavo. La donna non è in gravi condizioni, ma se sono state rispettate le precauzioni, mascherina, igiene e distanziamento, è probabile che non ci siano altri contagi.